Ciao, è più di un mese che ormai abito da solo e sebbene abbia messo in ordine, vi ha dato una pulita qualche altra volta, il casino è sempre abbastanza evidente, c'è un po' di piatti sporchi, dei cartoni di pizza, del disordine fondamentalmente, è necessario mettere in ordine. Allora mi sono chiesto perché non sfruttare l'occasione per fare qualcosa di creativo ed eccezionalmente stupido, ho deciso di fare un timelapse, come mettere in ordine una cucina in 15 secondi. Prima però, queste sono le foto di come era la casa circa una settimana fa. Bello schifo. Ho usato i filtri di Instagram, si vede, perché tutte le foto, anche quelle più schifose, vengono bene con Instagram. Allora, iniziamo. Ora. Ho usato i filtri di Instagram, si vengono bene con Instagram. Ho usato i filtri di 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 Instagram. Grazie a tutti. E' finito. Ecco un paio di foto di com'è la casa adesso. Poco credibile, eh?